Parliamo di valvole pop-off. Servono per andare a scaricare la sovrappressione, o meglio, il contraccolpo che si genera al momento in cui vai a mollare l'acceleratore sulle macchine turbo. Non tutte le macchine, premetto, che lo hanno di serie, tant'è che poi sono nate le aftermarket. Allora, andiamo a vedere velocemente come funziona. Tanto parliamo del collettore d'aspirazione. Qui c'è la tua bella farfalla, che sai benissimo, è un condotto che si apre e si chiude, man mano che acceleri si apre e qui si forma pressione, che va nei vari condotti, vai nei cilindri e ti dà sui motori turbo la spinta, ok? Logicamente a un certo punto cosa fai con la farfalla? Vai a chiudere. In realtà però le tubazioni, ok, cioè dal turbo la tubazione ha ancora dentro pressione. Se tu molli e chiudi, queste pressioni sono ancora, scusami, queste situazioni sono ancora con dentro l'aria, cioè l'aria sta ancora viaggiando a una certa pressione, a una certa velocità. Chiudendo di colpo, cosa succede? Tutta l'aria viene di colpo fermata, incomincia a vibrare e torna di colpo indietro nella turbina. Questo qua si chiama il colpo d'ariete. È molto dell'etereo. Il turbo subisce delle vibrazioni, dei contraccolpi paurosi. Subisce dei danni sulle palette, le giranti e quant'altro. Quindi il colpo d'ariete è veramente pericoloso. Sono state utilizzate su motori turbo, queste valvole pop off. Queste qua sono modifiche. In realtà quella originale è tutta chiusa, il condotto ha un altro tubicino qua che ritorna in aspirazione perché i gas non possono essere buttati in aria. Quindi questa qui viene messo sul tubo di alta pressione. Qui c'è il turbo, ok? L'aria passa di qua che va nel collettore. Questo qua è collegato e quindi quando tu acceleri, qui c'è un altro tubicino scusami, che va da questa parte, non davanti alla farfalla, ma sul collettore. Adesso andiamo a vedere perché. Tu acceleri, stai accelerando. Qui c'è pressione perché il turbo sta pompando e qui c'è pressione perché il turbo sta pompando. Questa, all'interno c'è un pistone che fa su e giù, ok? Quando tu acceleri, questo pistone tiene chiuso questo condotto. Quindi qui dentro non passa più, qui è chiuso. Quando molli l'acceleratore, che qua di colpo si chiude, da questa parte si forma depressione. Quindi qua va a aspirare, ok? Aspirando e con questa pressione da questa parte, questo pistone che c'è dentro si alza. Alzandosi fa uscire la pressione del manicotto, quindi del tubo, in eccesso, evitando così il contraccolpo, quindi il famoso colpo d'ariete. Questa pressione, prima di arrivare alla turbina, scarica da questa parte. Non so se ti è mai capitato di sentire qualche macchina un po' preparata, il soffio che fanno, quel soffio lì. È la pop-off che scarica all'esterno. Questa pop-off preserve tantissimo la turbina. Ora, controlla che tu, sulla tua vettura turbo, abbia questa valvola. Solitamente è nera, con un altro manicotto qua che torna nella scatola filtro. Come sempre è tutto sulle pop-off. Se vuoi approfondire il discorso, per me è un piacere, metti un like e condividi.